Sì, torna a respirare con questa bellezza che viene restituita a Rimini, alla comunità. Poi le storie sono articolate, le storie della città sono figlie di stratificazioni successive. Questo è un cantiere che è partito con i nostri ingegneri e con il lavoro molto puntuale, approfondito, preciso, vincolante della sovrintendenza archeologica e paesagistica è partito nel 2015 e che prima ha comportato per questo primo intervento, questo primo stralcio, cioè la corta mare, tutta una serie di rilievi archeologici e di scavi. Poi i dibattiti nella città sono sempre un po' anche articolati. Io mi ricordo quando sono arrivati si parlava di abusivismo commerciale, di traffico di macchine, di, purtroppo, lo dico in francese, come si dice, di merda in mare. Oggi c'è una città che riscopre il proprio futuro mettendo a posto il mare, rifacendo il parco del mare, prima le fogne e poi il sopra e poi la grande storia del passato che ci permette di attrarre turisti in futuro e di sentirci più riminesi anche in futuro. Dicevo prima, eravamo stati persino accusati di... ma non c'è il progetto. Non c'è il progetto all'inizio del 2015 perché prima di capire cosa fare è stata fatta una campagna di scavi archeologici puntuali. Cosa c'è sotto? C'era il tema a volte evocato del fossato, ma la campagna di scavi ha evidenziato come la città cambia e quando è arrivato l'Ottocento, come a Firenze che hanno buttato giù tutte le mura, sono stati demoliti anche porzioni e parti intere, quasi tutto il fossato. La campagna di scavi, ve lo dirà l'ingegnere Fravisini, ha rilevato degli accumuli di detriti. Oggi non si parla di fossato ma si parlerebbe di un buco a ridosso del teatro. L'Ottocento ha fatto sì che il teatro rompesse la prospettiva tra la Rocca e il castello e la piazza e l'Ottocento con le scelte del governo pontificio ha relegato a marginalità il castello con funzioni minori. Poi è stato un carcere, infine è stato lo sfondo quasi abbandonato di un parcheggio. Sappiamo che c'erano anche i furgoni del mercato ambulante. Poi c'è stato un intervento di riqualificazione interna della Fondazione Cassa di Risparmio, che è bene ricordare. A proposito anche qui di dibattiti nella città, se guardiamo i camminamenti che ci sono, gli ascensori, i piani nuovi, le scale, sono ancorate alle mure esistenti a proposito del camminamento e dell'intervento sul ponte di Tiberio. In qualche modo l'idea di preservare ciò che ci viene dal passato è anche quello di valorizzarlo, di avere verso il passato l'energia, il fuoco, non l'adorazione delle ceneri. Il castello era cenere, oggi è arte, oggi è fuoco. Corte a mare, un intervento che riprende il profilo della Corte a mare, e poi successivamente un secondo stralcio che partirà tra una settimana, a febbraio del 2018, per un anfiteatro sulla parte a nord della Rocca, quella che poi dà verso il campone, con la realizzazione di un camminamento che collegherà di fatto il castello, la vecchia circonvalazione al ponte di Tiberio, una passeggiata lungo tutta la cinta esterna del castello, rimuovendo la cabina dell'Enel, un impianto di illuminazione ad altissima tecnologia, LED, luce bianca ma calda, con un impianto anche che in occasione di qualche momento particolare potrà suggestionare cromaticamente il castello, la videosorveglianza. Io, come tanti altri, siamo nati e cresciuti a Rimini, sappiamo che ad esempio qui dietro, dove ci sarà l'anfiteatro, dove c'era prima la parte del mercato ambulante delle scarpe, ma durante purtroppo la notte, molto spesso il giorno, quella era un'area di degrado, dove purtroppo qualcuno si andava a drogare, domani sarà un anfiteatro con dei servizi, con dei chioschi e poi via il fiato lungo, questa piazza bellissima che riqualificherà, toglierà l'asfalto, pedonalizzerà, avrà degli elementi artistici, dei complementi urbani artistici e non degli semplici motivi di arredo, che dal castello correrà lungo la facciata del teatro, andrà a coinvolgere il Palazzo del Podestai della Rengo, il giardino degradato adesso del comune, fino ad arrivare a Piazzetta San Martino e il Fulgor, una grande piazza d'arti. E via le macchine. E via le macchine. Chi parla di, l'ho sentito dire, parco tematico, un parco Disney, insomma lo fa strumentalizzando, perché qui bisogna avere cura, sensibilità, lavoreremo con la sovrintendenza. Quando parliamo di elementi artistici nel segno di Fellini, pensate com'è Piazzetta Zavagli, quella tra il corso d'Augusto e il museo. Si poteva mettere una fontanina, una panchina, c'è un anello che richiama una storia felliniana di un artista contemporaneo, Staccioli, bravissimo. Ecco cosa sono gli elementi, come dire, fellineschi. Questa piazza d'arti, un anfiteatro, una piazza d'arti, che arriverà fino al ponte di Tiberio, che dovrà essere pedonalizzato. Cioè l'idea di riprendersi il passato per metterlo nel futuro. Per alimentare attraverso il 400, che dialoga con l'800, che dialoga con il 200 e il 300 del Podestà dell'Arengo, dove ci sarà il Museo d'Arte Contemporanea, e infine il fulgore di Fellini, grandi motori culturali per attirare viaggiatori, turisti, e dare economia e lavoro, lavoro, lavoro. Stanno aprendo locali che non sono come qualcuno dosinalmente apre un bar. No, ci sono dei locali che si richiamano ai malatesta, sono fatti con cura, sono fatti da elettricisti, da artigiani, da falegnami riminesi. Parte un'economia, se lavora un falegnami, poi lo compra una macchina per il legno. E quindi si lavora, con la cultura si mangia. Questo è il segno dell'intervento di una Rimini che riscopre il passato per metterlo nel futuro, senza adorare le ceneri che cadono, ma avendo il fuoco di avere cura di quello che abbiamo ereditato. In questo senso un grande ringraziamento al Ministero dei Medi Artistici e Culturali, perché ha capito che Rimini è sì, leggeresta, sorriso, ombrellone, ma è anche città d'arte. Il finanziamento di 13 milioni per il Museo Internazionale Fellini serve prima di tutto a mettere in mano il patrimonio che abbiamo. Senza quell'intervento non avremmo coccolato, accaressato, valorizzato Malatesta, il castello. Non avremmo valorizzato questa piazza che diventa una piazza d'arti, nel segno magari di Fellini, ma che rilancia l'Ottocento, rilancia il Podestale, Arengo. E questo è lo sbusto riminese che oggi consegna un luogo, prima avvilito, ferito e offeso, oggi riqualificato alla città. Grazie. 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 Grazie.